Ma guardi, Trieste è la città della multiculturalità religiosa per definizione e per storia. La comunità di fede islamica c'è, è una comunità come abbiamo visto molto numerosa. Io credo che la possibilità di praticare il proprio culto religioso la rafforzi in termini di integrazione e conseguentemente possa essere un antidoto rispetto ai rischi anche magari di cadere nelle parole d'ordine dell'estremismo e del fanatismo che tra le altre cose come vediamo anche con gli attentati che ci sono stati anche nelle moschee colpisce oltre che l'idea di democrazia e di civiltà cui noi siamo indissolubilmente legati oltre che i cristiani evidentemente che sono tra i bersagli fondamentali ma come abbiamo visto vuole colpire anche un'idea di islam come religione dalla storica tolleranza e dalla storica capacità di riconoscimento anche con le diverse religioni proponendone una versione fanatica. Diciamo che la moschea o comunque un luogo di culto dedicato può essere anche un presidio a difesa della storia dell'islam tollerante.